Buongiorno a tutti, sono Edoardo e benvenuti a casa mia. Oggi andremo a vedere un pochettino il discorso della respirazione. Io sono l'istruttore di ginnastica per il fondo Edo Tempia nella palestra di Cossato. Vedrete anche con tutti i miei colleghi del fondo che parleranno tanto di respirazione, come respirare. Vi farò un piccolo sunto di quello che è la respirazione, dei modi di poter respirare e come abbinare questa respirazione a determinati movimenti. Per prima cosa, primo esercizio che facciamo, cerchiamo di rimanere più rilassati possibili, magari da seduti, immaginando che ci sia un filo che mi prende e mi tira verso l'alto, quindi distendo bene tutta la colonna e dopo questo momento semplicemente io vado a respirare. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Ne faccio ancora un terzo, cerco proprio di prestare attenzione a quello che succede al mio corpo. Inspiro ed espiro. Ok. Aumentiamo un attimo la percezione sul nostro corpo. Quindi appoggio una mano sullo sterno e l'altra mano invece l'appoggio davanti all'ombelico. Ho sempre la schiena ben tirata verso l'alto, un filo che mi lega la testa e me la tira verso l'alto. Ok. Da questa posizione faccio lo stesso lavoro di prima, vado a respirare. Inspiro. Ed espiro. Ok. Le mani ci servono per aumentare la sensazione che noi abbiamo del nostro corpo. Alcuni di voi avranno magari percepito di più che la mano che rimane in alto sullo sterno si andava a muovere maggiormente, altri invece che la mano appoggiata sulla pancia si andava a muovere di più. Sono due tipi di respirazioni diverse. La prima, quella in cui il maggior volume, il maggior spazio percorso è fatto dalla parte alta del tronco, si dice respirazione toracica. Quindi l'obiettivo della respirazione toracica è quello di ampliare la cassa toracica, allungare bene i muscoletti intercostali che ci sono tra una costa e l'altra, aumentare il volume della cassa toracica e successivamente comprimerla. Questo tipo di respirazione ci aiuta tantissimo a lavorare sull'ampiezza e sul ridurre le tensioni muscolari proprio di questi muscoli intercostali. Se alcuni di voi invece percepivano di più la respirazione bassa, quindi con l'ombelico che si andava a gonfiare e si andava a sgonfiare, inspiro, gonfio la pancia, butto fuori l'aria e l'ombelico via va verso la colonna, questa invece è una respirazione più diaframmatica, quindi una respirazione sulla parte bassa. Il diaframma è un muscolo a cupola che va a dividere la parte alta dei polmoni dalla parte bassa dei visceri. Andiamo adesso a fare degli esercizi per ben comprendere come far lavorare il diaframma, enfatizzando la respirazione diaframmatica. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è sempre con le due mani appoggiate, quindi mano destra appoggiata sulla parte alta, mano sinistra sulla parte bassa. Quando butto fuori l'aria non devo percepire solo l'ombelico che va verso la colonna, ma devo percepire tutta la tensione della fascia addominale come se fosse una fascia che va a contrarsi e va a spingere i visceri verso in dentro, verso la colonna. Facciamolo ancora un attimo assieme. Inspiro, gonfio bene e poi butto fuori l'aria, butto fuori, butto fuori, butto fuori, tutta la fascia rientra. Inspiro Per alcuni di voi magari non viene così istantaneo questo tipo di respirazione, ma dovrebbe essere la respirazione quella più naturale, quella che i bambini, se li vediamo che dormono nel loro letto, dovrebbero avere una respirazione bassa, diaframmatica. Poi con tutti i nostri problemi della vita quotidiana, gli stress ed altro, magari ci può capitare che perdiamo questa respirazione che è naturale e andiamo a lavorare invece solo con una respirazione alta toracica. Quali sono i problemi della respirazione alta toracica? Che io vado a mettere in gioco tanti muscoli che non sono deputati a quel ruolo, quindi vado ad affaticare dei muscoli che non sono pronti. Qual è il problema di andare a far lavorare la parte alta del tronco durante la respirazione? E che noi andiamo a coinvolgere dei muscoli che non sono deputati a quel ruolo, quindi devono fare un lavoro in più e ci creano più tensione, più tensione a livello del trapezio, più tensione a livello della cervicale. Quindi cerchiamo di riappropriarci di quello che è la nostra respirazione diaframmatica. L'ultima parte teorica, vi ricordate che io avevo questo muscolo, il diaframma, che quando andavo ad attivarlo mi permetteva di gonfiare la pancia. Al contrario, io ho un altro muscolo qua davanti che è il trasverso, che quando vado ad attivare, come se fosse una fascia, mi va a premere i visceri verso il basso, va a spingere questo muscolo del diaframma verso l'alto e mi permette di far uscire l'aria. Quindi, inspiro con la pancia, butto fuori l'aria. Inspiro con la pancia e butto fuori l'aria. Tutto questo è naturalmente fatto con un filo che ci tira verso l'alto. Proviamo a renderlo ancora più chiaro, questo tipo di respirazione, e andiamo a coricarci. Quindi, dobbiamo coricarci, trovare un qualcosa di morbido, ma non troppo, nel senso, magari il letto cede un po' troppo, noi non riusciamo a capire le curve che abbiamo sulla schiena. Quindi, dobbiamo andare a cercare un qualcosa, che può essere anche il tappeto, un tappetino appoggiato a terra, oppure coricarsi anche solo sul tappeto. Io, come tutti i buoni istruttori di palestra, ho un lettino a casa e utilizziamo il lettino di casa. Quindi, da questa posizione vado a coricarmi e la stessa respirazione che abbiamo fatto prima la andiamo a fare anche adesso. Abbiamo sempre una mano, questa volta la sinistra, appoggiata sullo sterno, la mano destra invece appoggiata sull'ombelico. Lo sguardo è sempre bene verso l'alto. Facciamo attenzione al collo. Se noi abbiamo tanta retrazione sulla parte della cervicale, dovrò tenere un cuscino in modo da immaginare una cartolina che sia in mezzo ai denti e questa cartolina deve essere sempre perpendicolare rispetto al nostro piano d'appoggio, il nostro lettino, il nostro tappetino. Una volta che siamo bene dritti, dovremo sempre avere questa sensazione di allungamento di tutta la colonna, la mano che è appoggiata all'ombelico e una mano appoggiata allo sterno. Da questa posizione che cosa vado a fare? Immagino di buttare fuori tutta l'aria, fuori, 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 non rimane più una molecola d'aria, tengo la parte alta bloccata come se fosse bloccata da un peso e vado a inspirare e gonfio solo la pancia. Inspiro, gonfio la pancia, quando butto fuori invece attivo tutta la muscolatura anteriore, fuori, 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 inspiro, gonfio, 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 bravissimi, butto fuori l'aria. inspiro, gonfio, 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 bene, e poi ributto fuori. Gonfio e butto fuori. Questo ripetuto, ripetuto, ripetuto e ripetuto ci permette di automatizzare questo controllo e poi lo potremo andare a utilizzare in tutti gli altri corsi che andremo a fare nel Pilates, nello Yoga, nel Nordic Walking, nel Fit Walking, in tutte le attività che il Fondo Edo Tempia vi può andare a proporre. Ringrazio ancora il Fondo per questa opportunità, fate gli esercizi insieme a me e insieme a noi e ci vediamo la prossima volta. Ciao, ne!